saluti dalle macchie delle coserie che acro palati provincia di cosenza stiamo procedendo per eseguire con i lavori questa è la melanzana questi sono i peperoni sia quelli friarelli e sia quelli per fare poi pepe macinato in polvere io preferisco mettere anche questi sostegni e legare il campo vedete molti non lo fanno io preferisco farlo perché ci vuole pazienza ma credetemi quando si faranno più grandi tendono a girare e quindi perdono forza si stoccano quindi anche questa questo dettaglio ha fatto perlomeno con un filo ma io preferisco la canna fine che più che sufficiente queste sono le melanzane di varie qualità questo è uno spicchio dei miei terreni ce ne sono diversi così in giro e questo è il pomodoro bello rigorioso ancora non abbiamo messo trattamenti particolari solamente un po di verde rama e di zolfo ecco si presenta vigoroso leggeto dopo metteremo ancora delle canne in lunghezza in modo da farlo crescere più in altezza come abbiamo fatto già nella parte bassa proseguiamo con altre canne trasversali in lunghezza e possiamo poi rendere questo pomodoro più comodo da raccogliere nello stesso tempo è più pratico poi anche per lavorare ecco ecco qua vi saluto dalle macchie adesso vado ad un'altra terra facendo altri lavori poi devo ritornare qua a fare altri lavori ancora come si compatte nei terreni ogni giorno è sempre una bella faticata fino a mezzogiorno ma questa è una pianta di solanium che sono i fiori qua possiamo prelevare i fiori poi i semini per fare altre piantine vogliamo tentare questa strada magari puntare su questa possibilità al momento non sono tanto sicuro perché non ho capito bene la qualità perché voglio ricordare che su questa pianta si possono innestare sia peperoni sia melanzane di qualsiasi qualità e anche pomodori di qualsiasi qualità però non ho capito bene la qualità del prodotto ne parlano però tentare in questa zona ripeto non guasta magari da zona a zona potrebbe essere pure che la qualità sia migliore io punto adesso su queste due piante poi i semini se vedo che va bene potrebbe essere anche una rivoluzione ma al momento ci sono dei dubbi diffidiamo sempre degli effetti speciali questa è la tradizione questa sono le basi nostre solide più faticose ma sicuramente affidabili grazie 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 grazie